Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di tutto, prima di iniziare, saluto delle persone che me l'hanno chiesto, che sono Rania, Aida, Aurora, Marina D, Giorgia e Chiara. Un bacione a tutte. E niente, sono qui per fare insieme questa maschera qui, che ho comprato da Sephora. E prima di tutto, non so perché ho fatto così, però mi pulisco la faccia con questa acqua micellare, non so neanche se si vede con la luce, però credo di sì. E che è della Yves Rocher, che ho trovato nel mio calendario dell'ambiente, in cui c'erano tutti questi prodotti troppo carini. Ok, e ora andiamo ad aprire la maschera, praticamente dietro, fa vedere quindi che va prima aperta, poi messa e bisogna aspettare 15 minuti. Quindi la vado ad aprire, sperando di non fare troppo casino. So già che non finirà bene, perché sicuramente succederà qualcosa. Allora, speriamo di no. Allora. Cos'è sta roba? Allora, sto qua sopra perché sgoccio la tutta, questa maschera, che ora provo ad aprire senza romperla. Allora, immagino, ok, oddio, c'è una faccia. Ok, forse, ok, spero di non fare troppo casino. Ok, potrebbe essere bene, ma sono solo dettagli. Ok, potrebbe essere bene, ma sono solo dettagli. Chiedo di mettere la mania. Spero di una mania, un piacere che attraverso. Ok, potrebbe essere bene. Ok, potrebbe essere bene. Eccomi tornata qua, sempre con la mia fantastica maschera nera, ovvio. Ora è il momento di levarla. Diceva di aspettare 15 minuti. Ho aspettato, in realtà anche di più, anche tipo 20-25. E ora è il momento di levarla. E niente, vedere. Prima. Ah, è fantastico. È come levarsi tipo la pelle morte, è fantastico. E allora, la pelle è straliscissima, cioè non è uno scherzo, è straliscia, veramente tanto. È proprio soffice. È proprio, cioè non so neanche come dire, è morbidissimo, è fantastico. E qua abbiamo il reperto della nostra maschera. E il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Non mi ricordo se l'ho detto, ma comunque se l'ho detto ve lo ripeto. E se volete essere salutati, iscrivetemelo o qui, o su Musical.ly, o su Instagram. E vi lascio tutti i miei social qui, in descrizione. E spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Seguitemi su tutti i social, che appunto metterò in descrizione. E il video finisce qui. Vi voglio tanto bene. Un bacione e ci vediamo al prossimo video.